Grazie. Allora Monica, che facciamo? Cambiamo argomento? Beh, vabbè, diciamo che è d'obbligo a questo punto. Parliamo di Olimpiadi. Pechino, da Marco Clementi. Marco, buongiorno. Siccome so che c'è un po' di ritardo, sarò subito, sarò velocissima. Buongiorno, posso? Anche oggi è una bella giornata, no? Sì, vi devo dare subito una bellissima notizia. Sì, è arrivato il bronzo di Federica Brignone nella combinata. Insomma, per lei la seconda medaglia. Ricordiamo l'argento nel gigante. Poco fa, pochi istanti fa, si è conclusa la combinata. Era ottava in discesa, poi ha fatto una splendida manche di slalom. Terzo posto, davanti a lei due svizzere, ma veramente ancora successi, ancora soddisfazioni, soprattutto in questo caso per le ragazze azzurre. Ricordiamo ieri l'altra grande eroina di queste Olimpiadi, Arianna Fontana. Per lei addirittura tre medaglie, un oro, due argenti. Ieri l'argento nel 1500 metri, un bottino personale, pensate di 11 medaglie nei giochi olimpici. Mai nessun atleta italiano come Arianna Fontana. A proposito di pattinaggio, vedete, io vi trovo in questo momento al Capital Indoor Stadium di Pechino, perché oggi sarà una giornata molto, molto particolare che ci ricorderemo alle Olimpiadi. L'hanno già chiamata la gara dell'asterisco. Di cosa si tratta? Parliamo di Camilla Vallieva, la star quindicenne del pattinaggio mondiale, la star russa che però, sapete, è finita in una bruttissima vicenda di doping. È risultata positiva una gara al 25 dicembre a San Pietroburgo. Il Tassi, il Tribunale arbitrario sportivo, comunque l'ha mandata avanti tra mille polemiche e tra poco gareggerà. La gara inizia alle 11 ore italiana. Perché gara dell'asterisco? Perché il CIO ha già fatto sapere che nel caso in cui Camilla fosse una delle tre medaglie, ma è parte come al primo posto, è la seconda gara di fatto, patinaggio, prova libera, di figura. Ecco, la medaglia non sarà assegnata. È una cosa veramente pesante per un Olimpiadi, da l'idea del caso che si è sollevato intorno a questa vicenda. Insomma, oggi c'è la gara, favoritissima lei, ma non sappiamo cosa succederà. Non ci saranno fiori, non ci saranno assegnazioni di medaglia, non ci saranno sorrisi, forse ci saranno delle lacrime. Lo scopriremo nelle prossime ore. Siamo qui a raccontarvelo. Monica, Marco. Grazie, grazie a Marco.